Ciao, io sono Simone Zanotti, sono un giocatore della Vanoli Cremona e questi sono alcuni degli oggetti che porto durante le trasferte. Abbiamo un libro che non può mai mancare e in simbiosi vanno le cuffiette, perché questi due viaggiano insieme perché in pullman questi mi permettono di isolarmi da tutto il resto del gruppo e leggere in tranquillità. Solitamente leggo romanzi o comunque letture abbastanza scorrevoli piuttosto che questa che ho portato oggi, che è un saggio e quindi ecco questi sono i due oggetti fondamentali che mi porto sempre per me.